le storie sono facevano anche la siniglia quindi poche cose significative che ti fa capire che bene o male non conventi nulla cioè l'elio che non ho avuto con le gambe che fai cioè guarda la passata là ci sono due montagne giganti una ragazzina l'altro giorno diciamo ma ho voluto per un testo non mi permetto in mano però vabbè si può utilizzare per un testo qua si vede 900 dipendenti c'erano i palignani che facevano le casse per il prodotto adesso dei cartoni questi simboli con l'anfora indicavano che la merce era esportazione nel fatto di questi oggetti ci vengono portati anche da i dati come voi mi chiamano mi dicono ho avuto una cantina la ronda la ragia la ronda il camioncino e allora io cosa faccio mi tolgo su qua non c'è quello proprio di un uomo in france ma spettuale non c'è una scelta io non ho le sole di poste in particolare ce n'era una c'è una bocchina di straversi che c'è e io la il resto parisci e poi mi potece di dare e poi mi ha torno e mi dice mio genero mi ha detto era andata con silenzio ho capito il suo genero io ho parlato io perché era troppo per la regola grazie